Per le uscite videoludiche, settembre è un mese importante. La stagione riparte ufficialmente e i publisher si preparano a invadere i negozi con i titoli che ci accompagneranno durante l'autunno. Quest'anno la lista di uscite settembrine è davvero ricca e ripaga in parte un'estate abbastanza fiacca. Il mese comincia con The Sims 4, in uscita il 4 settembre. Il nuovo Live Simulator di EA e Maxis è una ripartenza per la serie, che cambia motore grafico e punta tutto su condivisione e creatività. Ci sono alcuni elementi che a fronte del lavoro di riscrittura integrale sono stati rimossi rispetto alle precedenti versioni e che saranno probabilmente reintrodotti in futuro. Eppure il nuovo mood spiritoso della saga sembra aver conquistato molti fan. Il 5 di settembre esce Danganronpa 2 Goodbye Despair, forse una delle produzioni più interessanti per PlayStation Vita dai tempi della sua uscita. La sua forza è tutta nella trama e nei suoi intricati intrecci, nei suoi personaggi banali ma imprevedibili, nei suoi risvolti illogici e tremendamente reali. È un gioco lineare eppure rappresenta una delle produzioni più originali del mercato. Immancabile è l'appuntamento con Destiny, in arrivo il 9 settembre su piattaforme next-gen e vecchie console. Il nuovo titolo Bungie è sicuramente uno dei prodotti più attesi dell'anno e la fase di test che si è svolta a luglio sembra aver convinto anche gli scettici riguardo alle potenzialità del gioco. Questo first-person shooter recupera una struttura da MMO e punta molto sul gioco cooperativo, ovviamente presentando anche un multiplayer che non mancherà di appassionare gli storici fan della saga di Halo. Il 12 settembre arriva NHL 15, primo episodio del celebre franchise Electronic Arts ad arrivare su console di nuova generazione. Gli sviluppatori hanno dedicato un'attenzione maniacale allo sviluppo delle versioni PlayStation 4 e Xbox One, che presentano caratteristiche esclusive come un commento più realistico, palazzetti riprodotti alla perfezione e un sistema di collisioni completamente riprogettato. Lo stesso giorno è la volta di Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution, brawler game che presenta un roster con più di 100 personaggi giocabili, tra cui alcuni inediti disegnati da Masashi Kishimoto, autore della serie fumetti che ha spopolato in tutto il mondo. Gli sviluppatori hanno da poco annunciato la presenza di una nuova modalità single player denominata Ninja World Tournament, che ci vedrà impegnati in un torneo che decreterà il miglior ninja del mondo. Il gameplay è generalmente tradizionale, ma con qualche novità. Esce il 18 settembre la nuova versione di Disney Infinity, unico rivale del sempre più agguerrito franchise Skylanders. Disney Infinity 2.0 presenta una grande novità, l'introduzione dei personaggi Marvel. Tra le prime statuine disponibili troviamo quelle di Thor, Vedovaniera, Iron Man, Spider-Man, Hulk e Capitano America. In futuro arriveranno nuovi set dedicati ai Guardiani della Galassia e a film molto popolari come Aladdin e Lilo e Stitch. Appuntamento immancabile il 19 del mese per tutti gli appassionati di GDR vecchio stile. Arriva infatti la versione finale di Wasteland 2, seguito di uno dei CRPG più apprezzati. Le dinamiche classiche, la forte libertà interpretativa e la presenza di un mondo caratterizzato nei minimi dettagli rende il titolo imperdibile per chi ama i giochi old school. Un altro ritorno alle origini dopo l'ottimo Divinity Original Sin. Doppietta Nintendo prevista per il 19 del mese. Da una parte, su 3DS, c'è Theater Rhythm Final Fantasy Cartain Calls, versione ampliata e aggiornata del titolo musicale che uscì sul primo DS, mescolando dinamiche da Rhythm Game a una struttura ruolistica. Dall'altra, invece, c'è Hyrule Warriors, indirittura d'arrivo su Wii. Si tratta di un musù sullo stile di Dynasty Warriors, ma ambientato nel mondo di The Legend of Zelda. Un bel numero di personaggi e qualche soluzione più ardita nella struttura delle missioni, che ricordano i momenti più celebri della saga, sembrano far pensare ad un prodotto davvero interessante per i fan. Il 25 settembre è la volta del calcistico Electronic Arts. Anticipando il rivale PES, arriva FIFA 15, la nuova versione del simulatore di calcio più venduto nel mondo. Il gioco si presenta con un comparto tecnico di primissima fattura, grazie al motore Electronic Arts Ignite, realizzato per sfruttare le potenzialità delle piattaforme di nuova generazione e ad un gameplay rifinito in molti aspetti. Siamo curiosi di vedere come si sarà evoluta la fisica della palla e l'intelligenza artificiale delle squadre, e di mettere alla prova il nuovo duo alla telecronaca. Il 26 esce invece su 3DS Fantasy Life, insolito prodotto di level 5 che mescola un action RPG molto semplice con un simulatore di vita sul genere Animal Crossing. Sarà possibile impersonare intrepidi paladini, oppure cuochi e sarti di paese, e vivere la nostra vita tranquilla nei borghi di Reveria. Non mancheranno però avventure epiche ed una storyline con un suo preciso sviluppo. Il mese si chiude il 30 settembre con Sherlock Holmes Crimini e Punizioni. Si tratta di un'avventura grafica un po' più dinamica dei classici punte clicca, mascherata da Venture Game con una visuale in terza persona. L'obiettivo è sempre quello di raccogliere indizi e fare connessioni logiche per arrivare al colpevole, ma tutta la parte deduttiva sarà completamente libera da vincoli. Ricordiamo anche tra le uscite digitali il terzo DLC di Dark Souls, il secondo capitolo di Anomaly in arrivo sulle piattaforme di nuova generazione e l'ottimo Defense Grid 2.